Sono Dante Capriulo, 52 anni, sono laureato in giurisprudenza, abitato alla professione di avvocato e lavoro da sempre nella principale azienda di telecomunicazione in Italia. Da qualche anno ho la passione per la politica e per la vita amministrativa e grazie al voto libero dei cittadini ho svolto il mio mandato da consigliere comunale e per un brevissimo periodo anche da assessore con incarichi importanti. Questo mi porta a sentirmi al servizio dei cittadini in maniera libera, perché per mia fortuna ho sempre fondato il mio impegno sulla libertà nel rapporto con i cittadini, quindi il mio voto è stato sempre un voto libero senza dare in cambio nulla, se non il mio impegno, la mia passione, la mia disponibilità. Questo mi viene riconosciuto e questo rimetto a disposizione anche in questa tornata elettorale. Mi sono ricandidato perché intanto questa è una passione che è difficile da far tramontare, inoltre perché credo che questa città ha bisogno di tutte le migliori competenze, tutte le persone che in qualche maniera possono dare qualcosa alla città. Io mi sento, dopo aver maturato queste esperienze, di poter dare qualcosa in maniera molto più forte a questa città dal punto di vista amministrativo, perché purtroppo la mia storia politico-amministrativa mi ha visto quasi sempre in minoranza, quindi ho cercato anche di fare mediazione rispetto a quelle pulsioni che spesso ci portano a voler essere protagonista. Infatti ero partito in questa campagna elettorale come candidato sindaco, ma poi la necessità invece di stare in un progetto più largo, di poter puntare a governare questa città mi hanno fatto pensare che era meglio stare nel campo politico mio di riferimento, il centro-sinistra, accettando la mediazione del Presidente Emiliano, riconoscendo nella candidatura di un giovane che è Rinaldo Melucci, la possibilità di portare speranza a questa città, perché io penso che un progetto largo, un progetto competente, un progetto fondato di persone capaci, che abbia dei rapporti con la Regione, con il Governo nazionale, possa sicuramente dare quel segnale di cambiamento, di traguardare il futuro di cui Taranto ha bisogno. Le priorità che noi stiamo portando avanti in accordo con Rinaldo Melucci, in accordo con tutti i soggetti che contribuiranno in questa nostra campagna elettorale, c'è sicuramente quell'idea di cambiamento strategico della città. Noi vogliamo una Taranto che superi l'idea di città industriale, così come è stata in questi anni, che abbia un concetto di multiattrattività rispetto alle proprie potenzialità, quindi la necessità da un lato di governare la difficile fase del passaggio del posto industriale, la grande industria inquinante che va ricondotta a quel principio per cui se deve produrre deve rispettare la salute e l'ambiente dei cittadini e questo oggi la scienza ci dice che è possibile, noi dobbiamo fare tutto quello che è necessario per poter fare in modo che la produzione rispetti la salute e la vita, ma dall'altro dobbiamo cominciare a pensare ad una visione strategica diversa, noi abbiamo il nostro patrimonio archeologico, abbiamo le nostre risorse legate al mare, abbiamo il settore dell'acroindustria, abbiamo delle possibilità di innovazione rispetto alla piccola e media impresa, quindi tutti i settori che vanno supportati, che vanno aiutati, che vanno resi strategici, quindi la priorità per noi che cercheremo di portare avanti, perché su questo c'è già l'accordo programmatico, è quella di individuare una visione strategica per la Taranto dei prossimi 20 anni fondati non più sul settore industriale Tucur, ma sulla multiatrattività della città. Ho accettato di sostenere la candidatura di Rinaldo Melucci per varie ragioni, prima di tutto perché fa parte del mio schieramento di riferimento che è quello del centro-sinistra e siccome credo che nonostante oramai si rifugga della politica, che invece Taranto, che è una grande città del mezzogiorno, abbia bisogno della politica e di una visione e di una dimensione che sia quantomeno nazionale se non europea. Dopodiché ho accettato anche gli inviti del Presidente della Regione Emiliano a stare all'interno di questa coalizione e poi perché ho avuto modo di conoscere il candidato Rinaldo Melucci, che è il più giovane dei candidati avendo soltanto 39 anni, che è una persona libera mentalmente, un imprenditore portuale, che mi è sembrato proprio quel soggetto in grado di far guardare a questa città fuori dagli estremismi che spesso ci appartengono con una mentalità aperta, proprio quell'apertura che è legata al suo lavoro con il mare e che serve a questa città. Quindi la sua giovane età, la sua apertura mentale, legata anche a quelle che sono le nostre esperienze, penso che possa essere una sintesi ottimale per traguardare questa città verso gli scenari futuri e quindi quel cambiamento di cui abbiamo bisogno. Ovviamente per fare tutto quello in cui crediamo, per quella scommessa di traguardare questo nuovo futuro della città abbiamo bisogno del voto dei Tarantini, lo chiediamo in maniera libera perché possiamo dare in cambio soltanto il nostro impegno, mettere a servizio la nostra competenza, rispetteremo in ogni modo il voto democratico. Però io credo, proprio in questo momento di grande confusione della città, che la solidità che possiamo rappresentare come schieramento di centrosinistra, il fatto che abbiamo il candidato più giovane, il fatto che molti di noi mettono a disposizione le proprie competenze in un legame con la Regione, con i livelli nazionali, devono far riflettere gli elettori a non sprecare il proprio voto, ma ad affidarlo ad un soggetto che ha sicuramente quelle capacità di guardare al nuovo futuro della città. Per questo ci appelliamo a voi, per questo chiediamo il vostro voto l'11 giugno. Tra le liste a sostegno di Rinaldo Melucci vi invito a dare la preferenza alla lista per Taranto, diamoci per noi. Ci sono 32 candidati liberi che sono pronti a mettere al servizio della città i loro talenti e tra questo ci sono anche io Dante Capriulo, quindi un invito a sostenere la nostra lista.